Gravissimo incidente sul lavoro questa mattina a Monfalcone. Verso le 10.30, quattro dipendenti comunali, mentre stavano eseguendo dei lavori di manutenzione all'interno della scuola primaria Nazario Sauro, che si trova nel quartiere di Panzano, all'improvviso venivano investiti dal crollo del controsoffitto. I calcinacci colpivano tutti e quattro gli operai. Per motivi in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il soffitto è improvvisamente crollato durante l'esecuzione dei lavori. Sono immediatamente scattati i soccorsi. Quattro ambulanze del vicino ospedale civile di San Polo sono giunte sul luogo dell'incidente per prestare le prime cure sanitarie, mentre due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Monfalcone hanno provveduto ad estrarre i corpi dalle macerie. Gli operai, due di 43 anni, uno di 44 e un altro di 52 anni, sono stati subito soccorsi e ricoverati in ospedale. Uno di loro, dopo che i sanitari hanno constatato la gravità delle fratture subite, è stato elitrasportato al nosocomio di Catinara, dove si trova ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva. Sull'incidente stanno svolgendo le indagini in polizia giudiziaria gli uomini della compagnia Carabinieri di Monfalcone. Tra le cause non si esclude l'errore umano. Tra le cause non si esclude l'errore umano.